La conferenza stampa dopo il Consiglio europeo è legata agli argomenti del Consiglio, ma non possiamo non partire dal sentimento di grande dolore per ciò che sta avvenendo innanzitutto in Tunisia. La nostra amicizia, la nostra solidarietà, le nostre condoglianze al Presidente della Repubblica, al Primo Ministro, al Governo tunisino e naturalmente al popolo di questa regione del Mediterraneo cui noi attribuiamo grande importanza, cui noi attribuiamo un significato di grande valore, di grande rilievo. Ricorderete come sia stata la prima destinazione della missione del nostro Governo e ciò che è avvenuto, i cui contorni sono ancora da definirsi dopo ciò che già era successo al Museo Bardo qualche settimana fa, qualche mese fa, non può che farci provare un sentimento di dolore e di vicinanza. Dunque partirei dall'esprimere le condoglianze per ciò che è avvenuto in Tunisia. L'unità di crisi della Farnesina è con la consueta professionalità e al lavoro per tenere e verificare anche l'eventuale presenza di nostri connazionali e naturalmente nelle prossime ore sarete informati e coinvolti dalla Farnesina direttamente dal Ministero dell'Unità di Crisi. Naturalmente questa è una giornata in cui la solidarietà è stata espressa anche in questo caso direttamente al Presidente della Repubblica Francese, a François Hollande, per ciò che è avvenuto in Val d'Isère. Se non ho capito male, anche in questo caso il Presidente Hollande stesso ci ha chiesto di poter lasciare, come è ovvio che fosse, lo ha fatto subito, i lavori del Vertice e si è recato a Parigi per seguire la situazione e le cose che gli ha detto uscendo e che sono già sui vostri desktop, che sono già sui vostri computer, sono le cose che ha detto qualche istante prima anche a noi. Dunque un Vertice europeo che è anche molto importante per i risultati, ne abbiamo già discusso in almeno due circostanze, sia stanotte che stamattina, che purtroppo è però funestato almeno nella contestualità cronologica da questi due eventi, che sono due eventi di rilevante gravità. Rispetto ai temi non ho molto da aggiungere perché sull'immigrazione abbiamo già detto ieri, è un passaggio importante per l'Europa perché si riconosce un principio che di fatto possiamo definire che supera Dublino 2, che va contro Dublino 2, che però va nella dimensione della umanità, della solidarietà. Ovviamente si tratta di un accordo, quello sui 40.000 che dovrà essere poi diviso al proprio interno tra i singoli stati, ma il punto chiave di ieri, ne abbiamo discusso anche stamattina, è che ove si fosse fatta una formulazione basata sul base volontaria, il numero dei 40.000 sarebbe stato un numero generico, non un numero concreto di riferimento. Con questa formulazione saranno 40.000 i migranti che lasceranno Italia e Grecia e naturalmente poi le singole realtà governative, d'accordo con la Commissione, troveranno la quadratura interna sulle quote interne di ripartizione. Io lo ritengo, l'ho detto e lo ripeto, un passo importante soprattutto per l'Europa e per l'idea di Europa più che per l'Italia. L'Italia ha comunque da far fronte alla questione di immigrazione con mezzi propri, con strutture proprie, lo sta facendo, lo ha fatto, continuerà a farlo con sempre maggiore intensità, quindi noi non ci tiriamo indietro rispetto ai nostri impegni, ma era fondamentale che questa questione che i trattati precedentemente approvati anche dal governo italiano di fatto lasciano soltanto nelle responsabilità del Paese di prima accoglienza potesse essere condivisa almeno con un gesto che ha una valenza simbolica, anche se poi in realtà ha anche elementi di natura concreta, oggettivi, perché evidentemente quando ci sono 40.000 persone in meno, questo è un risultato piccolo quanto si vuole, ma un risultato è. Abbiamo discusso di molte altre questioni sulle quali ovviamente non credo di dover raggiungere altro, vi ho detto stamani mattina della Grecia, non vi ho detto della discussione sulla sicurezza che invece è stata una discussione molto positiva, peraltro ciò che è avvenuto una volta di più in queste ore non fa che confermare che c'è una emergenza, sicurezza che parte innanzitutto nell'aria più calda in questo momento che è quella del Mediterraneo, bisogna riconoscerlo che c'è sicuramente una grande questione orientale, che ci sono, all'interno orientale europea, che ci sono tanti elementi di discussione aperti, ma una volta di più si vede quello che l'Italia sostiene da tempo, cioè che il Mediterraneo è in questo momento il cuore delle preoccupazioni e io aggiungo delle speranze europee, non soltanto italiane. La vicenda francese ancora una volta conferma che, ove fosse confermato, diciamo come è probabile, la matrice che lo stesso presidente Hollande ha ritenuto identificarsi in matrice terroristica dell'evento, dimostra che ci sono ormai non soltanto i tradizionali fronti da tenere, attacchi in grande stile, ma anche piccole cellule, come è accaduto per esempio alla redazione di Charlie Hebdo, come è accaduto al museo ebraico di Bruxelles, alla sinagoga di Copenhagen, se non vado errato, c'è piccoli gruppi che muovono con magari anche mezzi non particolarmente ingenti, ma con una organizzazione molto forte e con una convinzione molto forte, una piccola organizzazione che portano ad avere delle minacce interne che vanno considerate come tali. Quindi la discussione sulla sicurezza a cui ha partecipato il segretario generale della Nato deve tenere insieme sì le grandi questioni geopolitiche mondiali, ma poi prendere atto che esistono delle questioni interne ai singoli paesi, che esiste un grande tema del Mediterraneo e io credo che questa discussione sia stata particolarmente positiva per la qualità degli interventi, discussione sul mercato digitale, discussione sul rapporto dei quattro presidenti, quattro più uno, dove abbiamo confermato il giudizio che avevamo dato all'interno del Parlamento italiano. Mi sono dimenticato qualche punto del Consiglio? Direi di no, quindi mi pare, sì l'ho detto prima, non era attento lei Gozzi, Gozzi non attento, molto grave. Ho accennato anche alla questione del digitale, se ci sono delle singole domande per cortesia vi chiederei che sensi tutte le volte mi redarguisce severamente, però io ho fatto ieri, ho parlato all'ingresso, poi ho parlato all'uscita alle tre, poi ho parlato stamani mattina e soprattutto alle sette e mezzo ragionevolmente alla conferenza stampa di dopo il Consiglio dei Ministri, quindi onde evitare di venirvi a noia, non vorrei stancarvi, lo faccio per voi, se è possibile avere magari due, tre, quattro domande massime, un solo giro e poi almeno possiamo tornare in Italia per il Consiglio dei Ministri. Credo di aver fatto una carrellata su tutte le questioni aperte, se ce ne sono altre che mi sono dimenticato vi prego di farmelo sapere. Prego. Grazie, David Carretta, Radio Radicale. Presidente, a proposito del rapporto dei quattro Presidenti, vista la situazione in Grecia, volevo sapere se lei è soddisfatto del non dibattito che alla fine c'è stato questa notte in termini e soprattutto se è soddisfatto del percorso che viene tracciato dai quattro più uno. Ivo Caizzi, il Corriere della Sera. Mi ricollego la domanda del Corriere e del collega e quello che ha detto lei l'altro giorno all'Eurosummit, cioè che il caso Grecia è anche un punto di riferimento per capire l'Europa che vogliamo. Effettivamente il modo come viene trattato questo Paese, ritornando sempre a quelli che sono i principi di solidarietà europea, apre dei dubbi anche in prospettiva per quello che potrebbe succedere a altri Paesi ad altro debito. Non crede che l'Italia dovrebbe prendere una posizione più netta, più determinata per indirizzare quello che si sta facendo sul tentativo di salvataggio della Grecia più in linea con la solidarietà europea come lei ha fatto ieri per l'immigrazione. 4 più 1 Grecia, poi? Dal Genio? Repubblica e Messaggeria. Dai veloce poi per dirà se c'è qualcuno. Anch'io sulla Grecia, Presidente. Lei pensa sinceramente che domani all'Eurogruppo ci possa essere un accordo? Nel senso che la nostra sensazione è che ci siano anche sensibilità diverse tra i vari governi sulla volontà vera di fare questo accordo all'interno di alcuni Paesi, anche se sembra esserci volontà diverse, e tra le istituzioni. Ci può spiegare un po' la mappa della situazione e se sinceramente lei pensa che ci può essere un accordo? Bene. Marco Conti, il Messaggero. Presidente, volevo chiedere se sul tema dell'immigrazione è vero e fino a che punto c'è una svolta anche all'interno, ovvero sia sui rimpatri degli irregolari e diciamo un pugno duro diverso da parte... Martini? Martini, Pancheri e finiamo. Dai, sei. No? E' Consoli, quindi sei, perfetto. Presidente, da... 4 più 1, Grecia, Grecia, me li ricordo perché sennò poi la filmo segnandomi, è la questione dell'immigrazione. Prego. Da diversi anni in diversi Paesi circola questa retorica del battere i pugni sul tavolo. lei ieri ha alzato la voce. È stato utile? Quella retorica in qualche caso ha una ragione d'essere? Grazie. Le ultime due? Consoli. Ancora Consoli di Ascanius, ancora sull'immigrazione. Presidente, a me è sembrato che ci sia stato un vero e proprio scontro istituzionale in realtà tra la visione intergovernativa e quella comunitaria e l'Italia era con la parte giusta, quella comunitaria, quella commissione, ma è uno scontro che non è finito lì, mi sembra, perché Juncker non mi sembrava per nulla contento del risultato e mi sembrava si stesse riservando a qualche azione. Che cosa succede se quando si tratterà di fare la redistribuzione gli stati non si mettono d'accordo? Chiaro? Pancheri? Presidente, sull'attentato in Francia, lei ha ricordato che ancora una volta si tratta apparentemente di un attentatore che è cresciuto nel paese, allora le volevo chiedere a questo punto e a questo riguardo che rischi ci sono invece per l'Italia, anche alla luce del fatto che dopo gli attentati di gennaio un po' tutti i paesi avevano rafforzato le loro misure, ma evidentemente qualcosa non sta funzionando. Allora, se non ci sono altre domande vi chiedo scusa, cerco di essere super sintetico nelle risposte. 4 più 1 è stato abbastanza strano l'ordine del giorno, nel senso che del 4 più 1 si doveva parlare oggi, poi in realtà la presenza di Draghi era ieri, quindi c'è stata una introduzione di Juncker e una discussione, devo dire, non particolarmente ampia sul tema, quindi, tant'è vero che alcuni paesi, tra cui l'Italia, ma anche paesi anche molto diversi, la so, Belgio e Portogallo, per dire due paesi anche molto diversi, con estrazioni politiche diverse dall'Italia e la prima volta diverse l'uno dall'altra, hanno sottolineato la necessità di fare un dibattito molto ampio su questo tema, perché? Perché il rapporto dei 4 più 1, io confermo il giudizio che ha dato il governo italiano in varie sedi, in sede Sherpa, in sede di Ecofin e naturalmente in sede parlamentare, è un, al momento non dico che è un'incompiuta, ma ha degli aspetti di grande interesse, noi li abbiamo sottolineato, e forse manca di concretizzazione, in particolar modo nella fase 2, nella fase più politica, detta fuori di metafora, non è che possiamo continuare con imbullonare in modo sempre più stetto gli strumenti istituzionali, economici e finanziari e non fare una scommessa sulla politica, che poi è una domanda che sale anche rispetto ad alcune considerazioni, hanno fatto Martini, Consoli o altri, quindi il punto centrale, il punto chiave è il rapporto dei presidenti è una grande occasione, non buttiamola via, non sprechiamola, tant'è vero che lei vedrà, che nella dichiarazione finale è asciugata ulteriormente, perché non si fa più riferimento, se poi è quella la versione finale, perché dovevano fare una correzione del drafting allo short term, ma si fa ragionamento semplicemente che abbiamo preso nota di questo testo e ne discuteremo. È una grande, grande, grande questione perché riguarda il futuro dell'Europa, c'è un aspetto ambizioso nella proiezione che dà all'inizio il rapporto, immaginando un'Europa da qui a 2025, ma poi mancano, a mio sommesso avviso, elementi di maggiore concretezza, in particolar modo nella fase più politica, nella fase 2, e su questo l'Italia è intenzionata a lavorare, avete visto i contributi che sono stati inviati, i contributi che abbiamo presentato in varie sedi, lo stesso articolo del ministro Paduan, comunque sulla questione complessiva economica recentemente, credo oggi o ieri, pubblicato da un'importante testata internazionale e quindi il quadro è questo. Ne abbiamo discusso un po' poco, però abbiamo preso l'impegno di discuterne per il futuro. Secondo punto, la Grecia. Io la vedo così, le prendo insieme le due domande, la domanda di Keizzi e la domanda di Vergenia. Non sono nelle condizioni di mappare lo stato dell'opinione pubblica. Intervenendo in Parlamento abbiamo sottolineato come a nostro avviso vi sia una parte dell'opinione pubblica europea, insegnatamente di alcuni paesi dell'Unione Europea, non necessariamente soltanto alcuni paesi grandi dell'Unione Europea, quindi detta fuori di metafora, non soltanto la Germania, che vedrebbero di buon occhio l'uscita della Grecia dall'Eurozona. A mio giudizio sarebbe un errore e non Keizzi per le ripercussioni sull'Italia. Lo dico con molta chiarezza, l'Italia dopo quello che è accaduto in questi anni, non è più dalla parte dell'imputato, non è più dalla parte dello studente da riprendere. Questo è un fatto positivo di cui dobbiamo essere felici. Naturalmente le conseguenze sarebbero su tutta l'Eurozona, ma non segnalamente sul nostro paese, perché se c'è una cosa che è evidente, il cui che tanti evidenziano come una misura procrescita, è innanzitutto una sorta di grande scudo rispetto ai problemi finanziari o della possibile emergenza finanziaria. Quindi noi non siamo preoccupati per l'Italia, noi siamo preoccupati per l'Europa. Se esce la Grecia è una sconfitta per l'Europa. Naturalmente perché si arrivi a bloccare la Grexit, c'è necessità da parte del governo greco di dare un concreto orizzonte di interventi. I greci e il primo ministro Tsipras sostengono di averlo fatto e di aver fatto dei passi in avanti. In parte delle istituzioni non c'è la stessa opinione, almeno anche nei dettagli, perché è del tutto evidente che ormai siamo molto vicini a un punto di accordo. Io se mi domandate tu pensi che domani si possa chiudere l'accordo? Io penso di sì, spero di sì e credo di sì. Lo faccio non per un atto egoistico come italiano, lo faccio per un atto politico come europeo. Naturalmente occorre che tutti facciano l'ultimo miglio o forse qualcosa in meno dell'ultimo miglio e credo che ci siano le condizioni perché ciò accada. Sulla questione della immigrazione, sia in ordine alla vicenda esterna che interna, Consoli dice che si è scontrato un approccio tra l'approccio comunitario e l'approccio governativo. Il derby tradizionale che in tutte le nostre discussioni europee viene portato avanti per dirla a chi ci ascolta da casa in modo meno europeese e burocratese. Una parte dei cittadini che credono nell'Europa vorrebbe che ci fosse un potere maggiore delle istituzioni europee e una parte invece sta convintamente sullo schieramento dei singoli governi che difendono le proprie prerogative. Questa discussione sicuramente ieri c'è stata, almeno parzialmente, non so dire che cosa potrà fare Jean-Claude o da altri in futuro. So che un po' di questa discussione c'è stata, è una discussione vera, accesa, ma prima di tutto c'è stata una discussione a monte. Se Dublino 2 potesse, e 3 anche poi nella versione di modifica fatta nel 2013, potesse essere per la prima volta modificato o superato o temporaneamente eccezionalmente superato, no. Questo è il punto fondamentale. E io lo dico perché vedo dei commenti in Italia che sono strani su questo accordo. Io ho detto dal primo giorno che non è un accordo che cambia la vita all'Italia. Tant'è vero che ieri in un più di circostanza ho detto per me si può restare così, non vi preoccupate. Noi non abbiamo bisogno di chiudere questo accordo per noi. Siete voi che avete bisogno di chiudere questo accordo. Perché se l'Europa di fronte a una situazione migratoria così rilevante e puntuale come quella che stiamo conoscendo, non avverte il bisogno di essere solidale, vuol dire che l'Europa ritaglia per se stesso soltanto il ruolo di custode dei conti. E per chi come noi viene da una tradizione europeista, quella tradizione che si emoziona per la cittadinanza ad honorem a Jacques Delors, conferita dalla cittadinanza europea ad honorem, conferita alla fine del Consiglio Europeo, non può, per chi di noi viene da questa esperienza, non può essere banale il fatto che di fronte a una grande emergenza ci sia l'egoismo a trionfare. L'Europa è solidarietà, non egoismo. Questo naturalmente ha in sé anche un dibattito tra varie realtà istituzionali dell'Unione Europea, come diceva Consoli, ma è soprattutto un principio politico. Quello che è accaduto è che l'Italia, non so, lo dico a Fabio Martini, quanto alzando la voce, perché io non ho mai alzato la voce in senso tecnico del termine, anzi ero molto tranquillo e più volte ho detto va bene, per me non è un problema. Almeno in quattro circostanze ho chiesto di andare a letto senza fare l'accordo. Perché se dovevamo cambiare o snaturare parlando di numeri che sono una goccia non rispetto all'Italia o alla Grecia, ma rispetto ai fenomeni migratori nel mondo, perché vista dalla Birmania o vista dalla Tunisia stessa o dalla Turchia o dal Kurdistan, questa discussione su 40.000 è una discussione che è molto piccola, è veramente una goccia. Allora io più volte ho detto va bene, sapete che c'è, si va a letto e non ci sono problemi di sorta, quindi senza mai alzare la voce. Credo che sia stato un fatto positivo che sia prevalso, devo dire, in modo molto forte rispetto al tentativo di blocco di alcuni paesi, il principio europeo, per cui a un certo punto è stato detto vabbè se non volete farlo voi lo facciamo da soli, che poi è il senso della differenza profonda lessicale nel wording, nella scrittura del testo che avete apprezzato, avete avuto modo di apprezzare. Su questo peraltro segnalo un siparietto, non so quanto gustoso, che si è tenuto alla fine del Consiglio europeo. Ovviamente Filippo mi aveva detto di non dirlo, ma ormai devo assolutamente porlo alla vostra attenzione, che è il seguente. C'è stato alla fine del discorso un dibattito su alcuni leaks, diciamo, dalla riunione del Consiglio, che è poi un grande tema da sempre. L'ultima volta l'avevamo fatto, ricorderete, quando Financial Times pubblicò la prima pagina, in prima pagina la polemica di Cameron un contro il bilancio, è stato sei o sette mesi fa, l'ultima volta alla quale ho partecipato io, ma chi di voi sta a Bruxelles o segue le vicende a Bruxelles, sa perfettamente che i documenti che partono, che poi finiscono prima sui giornali e poi ai governi, o viceversa, i racconti degli insiders dentro il Consiglio europeo, sono ormai un genere letterario che potrebbe aprire una discussione anche molto suggestiva per voi più che per noi, o perlomeno per alcuni di voi e per alcuni di noi, più correttamente. Il punto centrale è stato che nel momento in cui si è verificato questa discussione, il Presidente ha posto il tema della discussione di ieri e qualcuno ha detto, il Primo Ministro di un importante Paese, l'Ungheria, ha detto che bisognerebbe controllare prima di entrare i telefonini e magari verificare gli strumenti di comunicazione dei singoli, ho avvertito l'esigenza, insomma portiamo la voce e il peso sulle spalle di un Paese che si chiama Italia, che sa che cos'è la libertà di stampa e di informazione, ho avvertito l'esigenza di dire che a mio giudizio è necessario fare i consigli europei in streaming. Ora, non che le esperienze della direzione del PD abbiano rafforzato moltissimo il giudizio sulla direzione del PD, ma è del tutto evidente che nel momento in cui qualcuno si permette anche di dire che bisognerebbe che rimanesse la segretezza e la riservatezza degli atti, io ho interrotto con rispetto naturalmente senza alcuna polemica il Primo Ministro Orban e ho sottolineato come da parte mia la proposta, la controproposta è fare in streaming i consigli europei, questo agevolerebbe anche il vostro lavoro e impedirebbe ricostruzioni capziose e fasulle. Naturalmente ieri c'è stato sì dal primo momento una discussione sui tweet e sui post, in particolar modo il Presidente del Consiglio, Tusk, ha aperto questa discussione, gliel'ho detto quando il Presidente ha posto il problema, perché è evidente che ieri pomeriggio qualcuno ha pubblicato su tweet che non c'è accordo sull'immigrazione, che è un atto naturalmente che io rispetto il Presidente Tusk, ma credo che sia un errore dal punto di vista tattico aprire una discussione dicendo non c'è accordo, magari si dice alla fine che non c'è accordo che si apre, questo ha provocato un sano dibattito al nostro interno che mi è piaciuto molto e che spero si possa replicare. In questo momento vorrei informarvi che la mia proposta di fare in streaming i consigli europei non è ancora maggioritaria, dubito che lo diventi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma mi sento di poter dire che nessuno proporrà come a scuola di lasciare i telefonini o di non andare su Twitter interrompendo per qualche momento la comunicazione, peraltro segnalo che ieri noi non eravamo stranamente né su Facebook né su Twitter, l'abbiamo fatto alla fine della giornata, alle tre e mezzo di notte quando già i risultati erano andati. Però mi sembrava doveroso anche rendervi partecipi di questa sacrosanta battaglia per la libera circolazione delle idee e anche persino dei VIX che si è conclusa, no, immagino che proseguirà nei prossimi giorni e mesi, ma che si è verificata proprio prima di lasciare il dibattito del Consiglio, so che ci tenevi tanto che lo potessi dire in modo così puntuale ed esplicito, il rispetto all'alzare la voce, noi non alziamo la voce, noi siamo l'Italia, dobbiamo uscire da questo meccanismo in cui di fronte alle istituzioni europee veniamo sempre con l'atteggiamento molto preoccupato come se fossimo, l'Italia è l'Italia, cioè uno dei sei paesi che ha fondato questa straordinaria istituzione e mi sono permesso di dirlo ieri ad altri colleghi che hanno utilizzato parole forse un po' fuori luogo rispetto alla questione migratoria, mi sono permesso di dire che l'Italia è un paese che nel 1957 ha creato l'Unione Europea, o meglio, ha firmato il Trattato di Roma nelle varie declinazioni poi e nei vari nomi che ha preso, perché crede in dei valori, in degli ideali, nella pace, nella libertà, nella generosità, nell'altruismo, non nell'egoismo. Poi si può fare tutto, noi non abbiamo problemi, noi sappiamo che l'immigrazione è una questione che è prioritariamente italiana e che rimane una questione prioritariamente italiana, ma è doveroso sacro santo che vi sia almeno un gesto di attenzione, cosa che alla fine si è verificato, quindi non abbiamo alzato la voce, ci siamo semplicemente fatti sentire come, ripeto, dobbiamo fare sempre di più e come io credo che tutti i politici italiani dovrebbero fare, indipendentemente dal colore. È il motivo per cui ieri ho voluto riunire i presidenti di regione, i sindaci, anche di altre parti politiche. È il motivo per cui abbiamo cercato il massimo coinvolgimento in Parlamento. Quando si va a incontri di questo genere, gli altri paesi arrivano come sistema paese. soltanto da noi si è pensato di utilizzare la tribuna europea sia a livello di Parlamento europeo, che anche, lo dico facendo in parte autocritica la mia parte politica, perché è giusto farlo anche rispetto a noi, come il luogo nel quale regolarsi i conti. Ah, vi dicono questo in Europa, allora dovete. Quando si va in Europa si è l'Italia e si difende un paese e si difendono dei valori e si difendono delle battaglie. Questo deve essere un messaggio molto forte che arriva anche alle nostre e ai nostri funzionari, diplomatici, tecnici, espressioni dell'alta burocrazia della Commissione, del Consiglio. L'Italia è un paese che si muove insieme, deve recuperare una dimensione di statualità che è mancata nel corso degli ultimi anni. ed è un tema fondamentale per la credibilità del sistema paese. È un argomento sul quale vogliamo lavorare sempre di più, dobbiamo lavorare sempre di più. Per cui l'Italia non è che alza la voce, ha l'ambizione di alzare il livello della discussione. Se di fronte a centinaia di migliaia, a milioni di profughi in tutto il mondo, la discussione è su 40.000 sì, 38.000 o no, o viceversa. Voi capite che è un elemento di meschinità alla quale non ci saremo mai prestati. Ecco il motivo per cui ho detto non vi preoccupate, noi questo documento o ce l'ho approvato oppure facciamo senza, ce l'hanno approvato e quindi tutto sommato a qualcosa è servito. Conti dice, poi vado rapidamente a chiudere la questione di migrazione in patria. No, non è che c'è un aumento del pugno duro. Noi abbiamo detto questo. Chi ha diritto all'asilo deve avere l'asilo, chi deve essere rimpatriato viene rimpatriato. I rimpatri sono partiti da tanti anni in Italia, poi ci sono stati momenti più o meno forti. Ricordo che la prima legge che va in questa direzione è la legge napolitano-turco, una legge fatta peraltro dal centro-sinistra, nemmeno dal centro-nestra, e da un ministro dell'interno straordinario che poi è passato alla cronaca e alla storia italiana più per la sua esperienza di Presidente della Repubblica, come è ovvio e naturale che sia, trattandosi di Giorgio Napolitano, ma vorrei ricordare che è stato un grande ministro dell'interno, oltre che un grande Presidente della Repubblica, e da questo punto di vista io penso che il lavoro che è stato fatto sulla questione dell'approccio dell'immigrazione continuerà nei prossimi settimane, nei prossimi mesi. I cittadini devono sapere che l'Italia può tenere sotto controllo questo fenomeno, sapendo, e chiudo con la domanda della Panchieri, che naturalmente c'è stato, in un mondo globale è normale pensare che anche l'Italia, vivendo in questa cornice europea e mondiale, è un paese che deve stare attento, che deve rafforzare i suoi livelli di sicurezza, di protezione, e sapere anche che molte di queste vicende, di questi drammi, di questi attentati, hanno caratteristiche tali da risultare in alcuni momenti particolarmente difficili da prevenire. Noi stiamo facendo un grande lavoro anche alla luce del decreto legge che è stato approvato e poi convertito in legge proprio nel mese di febbraio, se non ricordo male, presentato a febbraio, forse marzo, e recentemente convertito in legge. Continuiamo a tenere alta la guardia, come è naturale che sia. Diciamo anche però, e chiudo su questo, che oggi cos'è accaduto in Italia? O meglio, cos'è accaduto a livello di politica italiana? Una cosa che non dovrebbe fare notizia. C'è un tema, una discussione, talvolta un litigio, una polemica. L'Italia fa la sua parte, l'Italia ha fatto di tutto perché la questione della crescita e dell'innovazione potesse essere al centro dell'agenda europea. Oggi se ne è discusso, in misura per qualcuno soddisfacente, per qualcuno meno. L'Italia è convinta che ci sia bisogno di una grande strategia e un grande orizzonte per l'Europa e quindi ha presentato la propria posizione sul rapporto dei quattro presidenti. Ha posto un tema sulla migrazione che riguarda più l'Europa dell'Italia, perché noi dobbiamo farci la nostra parte da soli e lo sappiamo. Ma il messaggio Europa stai con noi era finalizzato a preservare e proteggere l'identità dell'Europa come spazio della politica e non soltanto come luogo dei vincoli di bilancio. Ha lavorato, come è giusto e doveroso che sia, sui singoli dossier, non dovrebbe fare notizia, perché dovrebbe essere sempre così. Dobbiamo recuperare un po' di statualità su quello. E dall'altro lato, fatemelo dire, perché può sembrare strano che lo dica proprio oggi, una giornata anche difficile per i motivi che sappiamo, ci sono dei dati che sono interessanti nel nostro paese. Non mi riferisco tanto ai singoli dati che tutte le volte possono essere più o meno apprezzati. Il centro studi di Confindustria che dice avete sottostimato la crescita, sarà più alta dello 0,1, che è una cosa per carità, speriamo, però importante, ma non è decisiva. Avete aumentato il numero dei posti di lavoro, ma la ripresa vera partirà. Secondo certe cose c'è un dato che a me colpisce, è l'aumento della fiducia, che è dei consumatori e delle aziende. Questo è il punto chiave, perché l'Italia in questi due anni si è talmente impaurita che ha perso fette di investimenti, non in ragione della crisi, ma in ragione della paura della crisi. Il dato dei depositi bancari da 3.500 a 3.900 miliardi di euro tra il 12 e il 14, cioè paradossalmente un aumento di oltre il 10% dei risparmi, non deriva dal fatto che si sta meglio e allora ci sono più soldi in banca, deriva esattamente dall'opposto, deriva dal fatto che la gente ha paura. E se le persone hanno paura, l'unico modo per restituire speranza a questo nostro meraviglioso Paese è quello di costruire quotidianamente, giornalmente, faticosamente occasioni concrete di speranza. È chiaro che è l'esatto opposto a quello che fanno alcune forze politiche, che scommettono tutto su ciò che non va e tutti noi sappiamo che di cose che non vanno ce ne sono a bizzeffe. Basta collegarsi con il permesso anche degli altri primi ministri a Twitter un minuto e uno si rende conto, o un'agenzia, diciamo più correttamente per rispetto a chi vi lavora, o a un sito, o a un all news, o a un giornale, una radio, chiunque di voi accenda un organo di informazione vede che ci sono tante cose che non vanno in Italia. Ma lo sforzo che noi stiamo cercando di fare in questa fase è quella di utilizzare le riforme strutturali che vanno avanti, perché voi non me l'avete chiesto, ma voi bruxellesi, voi corrispondenti virgolette europei sapete bene come il decreto legge sulle sofferenze bancarie sia uno degli elementi che costantemente veniva richiamato in tutte le specifiche raccomandazioni della Commissione. E per anni se ne è discusso, ora è una realtà, come pure una realtà alle popolari, come pure una realtà alla legge elettorale, come pure una realtà ancora non definitiva alla riforma della scuola, manca ancora l'ultimo passaggio alla Camera, come pure una realtà così importante e significativa alla riforma del mercato del lavoro. Quindi le riforme strutturali sono il nostro fondo salva Stato. Aver fatto le riforme strutturali porta l'Italia ad avere finalmente una cintura di sicurezza, una clausola di salvaguardia. Ovviamente vanno completate riforma costituzionale, pubblica amministrazione, giustizia civile. Oggi alcuni decreti fiscali ancora saranno decreti più legati all'ordinamento per l'abbassamento delle tasse, dobbiamo aspettare come ovvio il primo gennaio del 2016, avendo già eliminato l'IRAP nella componente del costo del lavoro quest'anno. Però quello che serve è un recupero di fiducia. Allora io vorrei chiudere su questo. Non c'è bisogno di alzare la voce. C'è bisogno di alzare il livello della discussione in Europa. C'è bisogno di far rialzare questo meraviglioso Paese che ha tutto per poter veramente tornare a correre e a volare. Io credo, personalmente credo, che le condizioni che ha il nostro Paese siano quasi uniche in questo momento in Europa. Cioè noi abbiamo uno spazio di crescita, avendo ancora da migliorare le nostre performance della macchina pubblica. E abbiamo un spazio nel mondo globale che ci rende paradossalmente la più grande sorpresa possibile dei prossimi anni. Siamo stati in negativo in passato. Siamo stati da sorpresa in negativo, combinando quello che abbiamo combinato, o meglio non combinando, non facendo le riforme. Ma ne sono profondamente convinto. L'Italia ha tutto per poter tornare ad assumere la guida non di un singolo settore, ma la leadership economica, insieme ovviamente ad altri partner, culturale, e c'è un grande bisogno di leadership culturale e, lasciatemelo dire, sociale di quest'Europa. Per farlo però c'è bisogno, da un lato, che ci facciamo sentire, dall'altro anche che non ci piangiamo addosso e che tutte le volte che si arriva anche a degli accordi più o meno discutibili, ma che sono accordi importanti, sentirmi oggi dire da quelli stessi che l'accordo di Dublino hanno voluto che quello che è accaduto oggi è poco, sarebbe stato molto di più se loro quell'accordo non l'avessero firmato. Sarebbe stato molto di più se ci fosse stato un atteggiamento profondamente diverso in passato. A chi serve rinfacciarsi il passato? A nessuno. Al lavoro ci sono tutte le condizioni per fare bene. Credo che anche oggi abbiamo messo un altro tassellino. Da qui al prossimo Consiglio Europeo io vorrei, a meno che non ci arrivi per tweet, una comunicazione improvvisa di un altro Consiglio Europeo, cosa che è già accaduta in questa settimana a proposito di social media, dicevo che se il prossimo Consiglio Europeo si terrà a ottobre, diciamo il prossimo Consiglio Europeo regolare, noi puntiamo ad arrivare al prossimo Consiglio Europeo avendo approvato la terza lettura della riforma costituzionale, avendo approvato la riforma della pubblica amministrazione, così come siamo arrivati a questo rispetto all'altra volta avendo approvato la legge elettorale in via definitiva, la riforma della scuola in via ancora non definitiva ma manca veramente poco e come avete visto abbiamo approvato in questa fase anche alcuni provvedimenti importanti a partire dal Jobs Act e dai decreti attuativi. Quindi arriviamo ad ottobre avendo approvato prima di ottobre Conti, non vorrei, spero prima di ottobre, non so se la preoccupazione era, l'abbiamo approvata perché ho fatto un crasi, ho detto, avendola approvata in via definitiva il 7 di maggio, è vero che dobbiamo fare le riforme, però fare le riforme per poi fare le riforme delle riforme, una sorta di riforma alla seconda, è una roba a mio sommesso avviso da lettino dello psicanalista, cosa che è comunque sempre possibile e utile in politica, quindi dicevo che nel mese di giugno il Consiglio europeo di giugno, quello che abbiamo appena terminato, ha visto l'Italia aver fatto passi in avanti sul decreto delle sofferenze bancarie, legge elettorale, alcuni provvedimenti importanti in termini di riorganizzazione della giustizia, sapete, della responsabilità civile, fino ai provvedimenti anticorruzione e come dire, ogni giorno fare che ce ne sia bisogno, quindi mi sembrano provvedimenti interessanti e importanti, davo il, come noi che veniamo dal mondo cattolico, siamo abituati alla fine a fare gli avvisi parrocchiali, ecco l'avviso parrocchiale è da qui al mese di ottobre, quando ci sarà il prossimo Consiglio europeo, vedo carretta che sul riferimento agli avvisi parrocchiali si è giustamente venendo da Radio Radicale sentito un po' male, lo capisco, gli esprimo la mia solidarietà umana e istituzionale, dicevo che da qui a ottobre noi abbiamo come obiettivo la questione della riforma costituzionale che è al Senato, la questione della riforma dell'APA che deve terminare Camera e tornare al Senato e quindi se su questi due obiettivi riuscissimo a portare a casa risultati concreti da qui a ottobre, altri due tassellini cruciali nella nostra scommessa di cambiamento dell'Italia sarebbero vinti. Detto questo vado ad approvare i decreti fiscali perché non vorrei che senza l'arrivo anche del Presidente rinviassero il CDM. Grazie mille e buon lavoro a tutti. Grazie, arrivederci.